La chiesa di San Severo in via Dismano, oggi pomeriggio, è stato il teatro dell'ultimo saluto a Jonathan La Sorsa, il bambino investito domenica scorsa a Ponte Nuovo lungo la Romea Sud mentre attraversava le strisce pedonali davanti a casa. Accompagnato dai familiari, il feretro è arrivato davanti alla chiesa poco dopo le 16 e già ad accoglierlo c'era un utrito numero di persone, fra loro anche il sindaco Matteucci e il questore Mondelli. Abbracciati l'uno all'altra, i genitori di Jonathan hanno atteso che la barra bianca tornata con i pelucci del bambino venisse trasportata in chiesa dove Don Stefano Morini ha iniziato la cerimonia appoggiando sul sarcofago il vestito con il quale Jonathan aveva affrontato il battesimo. Un gesto che il sacerdote ha voluto simbolicamente ripetere al termine della funzione quando per la benedizione finale ha voluto accanto a sé il padrino e la madrina del bambino. All'uscita della chiesa la barra è stata accolta da un lungo applauso e adagiata sul carro funebre adornato da palloncini e da un disegno con alcuni adesivi dei supereroi preferiti da Jonathan. Per voler della famiglia prima di raggiungere il cittadino, cimitero, il corteo funebre ha fatto sosta davanti alla casa di via Romeassuto, poco distante dalla chiesa di San Severo. Lungo il percorso diverse sono state le attività commerciali che hanno voluto chiudere le serrande in segno di lutto, mentre i dipendenti del conad nel quale la madre era solita recarsi per andare a fare la spesa hanno preparato per il bambino un cartello di saluto. Raggiunta la casa sono stati liberati i palloncini che addornavano il carro funebre e dopo un momento di raccoglimento il corteo ha proseguito a piedi per qualche decina di metri, fino all'angolo con via Fano, dove in questi giorni diverse persone, amici, familiari, parenti o semplici sconosciuti hanno portato un mazzo di fiori, un biglietto e un ricordo in memoria della tragedia.